Iniziamo creando il biglietto d'auguri, quindi tagliamo a misura un cartoncino, segniamo la metà e pieghiamo. Su un lato segniamo queste misure e poi tagliamo il cartoncino in corrispondenza. Prendiamo ora un pezzo di acetato e sulle parti più lunghe applichiamo un biadesivo. Dunque incolliamo l'acetato sulla base. In questo modo. Riposizionando uno dei due pezzi tagliati prima. Prepariamo ora la decorazione tagliando questi altri pezzi di cartoncino. Che passiamo alla big shot per un effetto trapuntato in rilievo. Che poi possiamo incollare andando così a nascondere il biadesivo. Procediamo a decorare il biglietto con quello che vogliamo. Io userò poche ma eleganti decorazioni in oro e nero. Prepariamo ora la base per la nostra penna regalo. Dunque segniamo questi punti di piega. Marchiamo bene con un dotter e pieghiamo. Sul lato con la piega più stretta realizziamo un foro. Potete usare un punch oppure una fustella. Dalla parte opposta creiamo un bordo decorato. Anche qua potete usare un punch, una fustella oppure delle forbici decorative. Realizziamo ed incolliamo due parti di cartoncino effetto trapunta. E chiudiamo il portapenna in questo modo. Decoriamo in modo che sia tutto abbinato al biglietto creato prima. Sulla parte superiore realizziamo un foro dove facciamo passare un nastrino. Ed ecco che possiamo inserire la penna da regalare al papà. Abbinata al biglietto d'auguri. Grazie a tutti.